Chiusa l'inchiesta sul Camping Orange di fondi portata avanti dal pubblico ministero Olimpia Monaco. Gli agenti del Nipaf hanno notificato al proprietario Danilo Schiavella l'avviso di conclusione delle indagini. L'uomo è accusato di lottizzazione abusiva. Entro 20 giorni il sostituto procuratore deciderà se rinviarlo a giudizio o meno. Il sequestro del campeggio che si trova in via Ponte Baratta era stato portato avanti dal Nipaf lo scorso 11 marzo, provvedimento successivamente convalidato dal GIP Nicola Jansiti. Sotto sequestro era finita l'intera struttura insistente su un lotto di terreno vincolato da uso civico di 10.000 metri quadri il cui titolare lo Schiavella è finito nel registro di indagati. Il campeggio che si trova in via Ponte Baratta in località Selvavetere era da tempo finito nel mirino della procura a seguito dell'inchiesta che riguardò le note vicende dell'Oli dei Village, nel senso che come le altre simili strutture della zona era stato oggetto di un'attenta ricognizione disposta dall'allora procuratore capo Giuseppe Mancini. Recenti accertamenti svolti dalle agenti di Nipaf e forestale avrebbero evidenziato come all'interno dell'Orange la situazione si sarebbe presentata in continuo mutamento. Da qui la ripresa delle indagini della Monaco che appunto ha disposto il sequestro. Il camping autorizzato in zona agricola come indicato dal piano regolatore generale a poco a poco si sarebbe trasformato in un vero e proprio villaggio turistico via le roulotte sostituite da più confortevoli bungalow, pavimentazione in cemento a ricoprire il terreno polveroso. Situazione del tutto simile a quella di un altro campeggio, il Sant'Anastasia, finito sotto sequestro il 20 aprile scorso. Vicenda quest'ultima che come noto è caratterizzata dalla mobilitazione permanente dei 150 dipendenti rimasti senza occupazione da un giorno all'altro.